Buongiorno e benvenuti presso Anti-Aging Solutions. Mi chiamo Paolo Portman e lavoro per Jeunesse Globale. In questo video vorrei spiegarvi il piano di remunerazione, anche chiamato piano marketing, di Jeunesse. Se siete alla ricerca di un'attività indipendente e se desiderate lavorare con me, iscrivetevi sul mio sito www.anti-aging-solutions.ch. Grazie. Eccoti la lista, non più completa, dei paesi in cui Jeunesse ha distributori e clienti. In nero i paesi in cui Jeunesse ha un ufficio. Passiamo ora al piano di compensazione per coloro che vogliono lavorare per Jeunesse e far soldi. Jeunesse offre sei tipi di guadagno. Guadagno sulla vendita al dettaglio, Bonus di acquisizione di un nuovo cliente, Commissione di gruppo, Bonus di leadership, Incentivo all'acquisizione di nuovi clienti, Leadership bonus pool, per rango di diamante superiore. Nelle pagine seguenti vediamo ogni punto in dettaglio. La prima fonte di guadagno è la vendita diretta. Come membro di Jeunesse acquisti un prodotto al prezzo di grossista per venderlo al prezzo al dettaglio. Guadagni fino al 60% del capitale investito. Ogni qualvolta che ingaggi un nuovo membro, ottieni un bonus in base al pacchetto appistato dal nuovo cliente. Il tuo guadagno può variare tra i 25 e i 250 dollari. Non è obbligatorio acquistare un pacchetto, ma è consigliabile. Qui è rappresentato qualche pacchetto di benvenuto. L'offerta però può variare. L'obiettivo di ogni membro è di formare un gruppo per poter usufruire delle commissioni di gruppo e far soldi. La retribuzione di gruppo è calcolata in funzione della prestazione del tuo team. Queste commissioni sono pensate per ricompensarti del lavoro fatto nel consigliare e sostenere i membri del tuo gruppo. Più il tuo gruppo vende, più riceverai commissioni. Per iniziare a guadagnare è necessario accumulare 100 punti sul tuo conto e aver assunto due distributori che hanno accumulato a loro volta 100 punti ciascuno. Due prodotti jeunesse bastano per accumulare 100 punti. Sarai pagato per ogni ciclo completo 35 dollari. Il ciclo è completo quando un minimo di 600 punti a sinistra e 300 a destra o viceversa è stato raggiunto. Sembrano tanti i 600 punti da accumulare ma non lo sono se hai più persone sotto di te perché i punti dovuti alla vendita di ciascuno vengono sommati tra di loro. Nel nostro caso qui abbiamo il braccio sinistro dove vedi 600 punti è il tuo braccio forte e a destra è il tuo braccio debole. Piazzerai persone che sai che sono molto attivi nella vendita li piazzi a sinistra e persone che sono poco attive le piazzi a destra. Così puoi completare i cicli più facilmente. Sembra tutto complicato ma non lo è. Alle commissioni di gruppo si aggiungono il bonus di leadership. Ogni qualvolta che uno dei tuoi collaboratori guadagna un ciclo guadagna un bonus. Un ciclo completo a livello 1 ti dà diritto a 20% di 35 dollari. A livello 2, 15%. Il numero di livelli dal quale puoi tirare profitto dipende dal tuo grado presso jonesse. Più gente è assunto, più cicli sono possibili. Anche i tuoi collaboratori assumono collaboratori dal quale puoi guadagnare dei bonus di leadership. Qui è rappresentata la scala del successo. Più in alto ti trovi sulla scala del successo, più grande è il tuo guadagno. La tua posizione sulla scala del successo dipende dal tempo e dallo sforzo investito nel tuo business. Più alta la cifra d'affari e l'attività dei tuoi collaboratori, meglio sarai posizionato. Il titolo di perla esecutivo, per esempio, ti dà diritto a commissioni del 20% di ogni ciclo a livello 1 e 15% a livello 2. Questo tipo di bonus vale al momento soltanto in America. Leadership bonus pool, l'ultima fonte di guadagno. 3% dei punti CV generati complessivamente dalla società saranno versati ai direttori con lo statuto di diamante e doppio diamante. Come membro Genesse ricevi una carta di credito che ti permetterà di ritirare i tuoi guadagni ad ogni sportello automatico. Volgiamo alla fine della mia presentazione. Ti ho convinto? Cosa aspetti ad iscriverti? Con solo 30 dollari sei membro e distributore. Riceverai un sito internet personale dalla quale puoi comprare i prodotti all'ingrosso, gestire il tuo conto, scaricare documenti, reclutare nuovi clienti e molto ancora. Selezioni un pacchetto di benvenuto, scegli una spedizione automatica, che non è obbligatoria, ne parli ad amici e gli istruisci a fare la stessa cosa.